prodotto perfetto per la stagione che sta arrivando siamo a settembre per cui da qui a qualche mese almeno io inizierò ad avere il raffreddore sbalzi di temperatura il fatto di andare in moto magari dopo aver fatto la doccia cosa di questo tipo e da qualche anno io utilizzo questo strumento che ne ho già uno e devo dire che è come si può dire prossimo dei più belli acquisti che abbiamo fatto è un nebulizzatore diciamo che un prodotto che ormai esiste da diversi anni è il classico per fare l'aereo sol solo che anziché avere il modello classico ingombrante così via questo è un modello piccolo compatto adesso non ho usato questo perché ripeto non sto usando questo però è un modello sicuramente carino proviamo comunque funziona con due batterie possibilmente dovrebbero essere di tipo ricaricabile qua da quanto visto non lo sono per cui e non c'è neanche scritto al più o meno vediamo ecco questa è già una cosa che non è bellissima proviamo lo stesso vediamo se ecco le batterie non sono fornite per cui mettetevi il cuore in pace sono da acquistare a parte ok nel caso di utilizzo di batterie infatti qui segnala che la batteria non vanno non sono di quelle o le vede scariche oppure bisognerebbe utilizzare delle batterie ricaricabili che purtroppo non vengono fornite questa è una cosa che onestamente non mi fa impazzire in ogni caso che ho ripeto al di là di questo che potrebbe esistono modelli che invece non prevedono batterie di questo tipo ma che utilizzano utilizzano semplicemente una presa usb di tipo c e sicuramente più comodi questo al vantaggio come avete visto e soprattutto non avendo le batterie faccio fatica di avere un display che mostra la temperatura mostra la percentuale di ricarica e poco di più ed è carino io sicuramente lo trovo è uno dei prodotti che consiglio ad amici parenti perché è una delle spese grandi spese da 20 30 euro se ne trovano veramente decine di modelli alcuni meglio di questo devo essere sincero magari per qualche ora in più ma non la batteria integrata però come dicevo è un prodotto che trovo molto molto comodo ci sono poi vengono consegnate di solito dei boccali da inserire oppure diciamo due mascherine due misure per adulti per bambini con l'elastico lo trovo molto molto comodo trovo comodo perché poi diventa semplicissimo da pulire normalmente si preme questo in questo caso si sfida così lo si lava direttamente sotto il lavandino senza nessun problema e lo trovo veramente comodo e funzionale soprattutto ecco l'altra cosa molto interessante che normalmente sono quasi totalmente silenziosi per quello potete fare anche mentre guardate la televisione anche per i bambini quando guardano i cartoni animati non sono assolutamente infastiditi da questo tipo di prodotto vabbè comunque vi lascio il link in descrizione il mio consiglio è dato un'occhiata se esiste anche la versione con già le batterie oppure cercate altri modelli però se avete diciamo l'abitudine di farla aereo solo farla fare ai bambini ma anche agli adulti questo secondo me è uno dei prodotti migliori che uno possa acquistare economico compatto dopo lo si può portare in giro si può usare ovunque sicuramente un prodotto che vale la pena acquistare avere in casa in ogni caso come al solito vi invito a lasciare un like al video e se avete voglia sotto c'è un pulsante con scritto iscriviti cliccate che diciamo l'iscrizione totalmente gratuita ci date una mano a crescere in termini di visibilità niente di più grazie e alla prossima